Che vabbè i critical c'erano uno nel mazzo e gli altri tutti nel... c'erano uno nella vita là Olè! Gon! Broly Gon! Frate è divertentissimo! Porca troia! Tutti già che c'erano il mazzo meta, è incredibile! Ok ho il peschino, buono Però non c'ho il ramp, vabbè ho fiducia in Goku visto che lo gioco in 1x Firmando pure i blogger, cosa che non ho mai Vediamo Rampina, no questa è la skill da Goku Il critico lo ce l'ho Vediamo se riesco a pescare sto rampino Porcazzo Eh vabbè ho detto uno dopo critical Non è che non pesco rampino Corcazzo L'inutilità ho fatto a carta Non c'è bisogno di cliccare su attacco, puoi anche trascinare la... ah ok Ah questo è quello che è fortissima, sta carta non c'ha senso Bella cacatina Dovamo pure... ah ok In mo' mi servono i Paragos, io altre volte pesco sempre i Paragas, ma che c'ho i blogger in mano non lo pesco Però mi servirebbe anche il rampino, cosa che non credo Sì la succhiatore di ca... ciao succhiatore di cappelle Trovo pazzi andiamo di lui, per lo meno comunque un 320.000 con critical Qua si deve difendere per forza Vabbè comunque ho sprecato un 10.000 E va bene il nostro l'abbiamo fatto Ti vedi peschino per il ramp? Ah sì, sicuramente mi darà il ramp, fidati Stanne certo Ha buttato il ser ciccione, grande Ok Quello è lo scaricano su iPhone? Non puoi, non c'è per telefono Olè, lui invece il rampino ce l'aveva E c'è pure il più Vabbè, 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 ma che giocata in curva ha fatto Mamma mia di cristo Beh, lui per me non lo giochiamo più Sì, è solo per PC Meno male Me l'ha dato Ah, rampino in tu rampino Perfetto Ottimo capo, ottimo E altre due carte Sì, sì, era rampino in tu rampino Sarebbe stato bello tirarli tutte e due però Ho messo due peroni in fondo al mazzo Ah, perfetto, non ne ho manco visti E' meglio così No, questo parese che c'ha Goana, no? Manco te lo sto a dire, quindi O mica la Goku Cell Che glielo posso spaccare solo con Tarles Forse Che forse pescheremo Tanto, zii, lo troppo con Tarles, non ti preoccupare Eh, 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 eh Ma in realtà lo posso scegliere dal mio drop alla mia energia Ok, posso mettere quello Che rank era? Quei cazzo sono? Eh, boh, non lo so Non li controllo io Sembra figo veramente Sembra quel gioco della Marvel su mobile Però adesso mi sfuggire Marvel Snap No, zii, non è Marvel Snap Anche perché una partita dura mezz'ora qua E' un gioco di carte Vabbè, Jedi, torna a dormire, va, va Non è perché Dragon Ball è una cosa in meglio, eh, comunque Vabbè, tu non ci arrivi Scusa C'è un Cristiano a cui si deve accattare un centinaio di codici a settimana per star passo No, Andre, ne basta solo una volta Poi credo che stai a posto per un po' di settimana Doppio Broly è comunque fortissimo Ah, l'altro Broly starà nella mia vita, sicuramente Olè, olè Fratello, questi giocano tutti in curva, a Cristo Dio Ma come cazzo fanno? E' incredibile Quello mi ha fatto ramp in 2-3-1 col peschino In 2-1-5 Vabbè E' inguardabile E' inguardabile, fratello E' inguardabile Ok, non c'è ancora Broly, fratello Qual'è quello? D'altro troppo, ok Oh, mi prendo questo Oddio, però devo usarli i blocker Tu ne ho già riuso i blocker, probabile Mi prendo lui Mi prendo lui, ah Ehhhh Andiamo faccia, naturalmente Io però attaccherai anche con lui Però è dubbio che devo attaccare prima con lui Sti cazzi, tanto qua fa Flip, skill E col Cell se lo rimette lì E comunque si prende il buff all'energia Pelo meno gli faccio il Krilicol Che ti devo dire Il mio classico game lo hai sul Cell Perché io lo ranno tutto io e ma un cazzo Sì, sì La base propria Ah, comunque se l'hai difeso Eh, io con Broly non lo attaccherei Cioè, ok che non pesco uno Però non lo faccio trasformare in Gohan Ficcate la povera carta che si toglie vita Se non mette nel drop è amen Però che ti devo dire Eh, perlomeno ci gioca a Tor Vediamo che fa Eeeh Cattiveria Però dopo che voglio fare io Brawl into Blogger? Oppure Oppure critical Oppure critical Paragas Blocker Vediamo Vediamo quanto se lo buffa per shottarmelo Ok Basta Ma Ma non credo proprio che te lo faccio inciare Non incia Capo Non incia Ma non mi sembra questo grande attacco Vediamo che gioco Vediamo che gioco Tanca costo se è il figlio di bastarda Devo pescare Broly Il problema è che chissà dov'è Eeeh 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 Faccio doppio di loro Giusto? Sìh Eeeh Eeeh Ok Eeeh 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 Gli inizia a tradare quei tranks di merda adesso Tardino il turno può calabrone Può calabrone Se vuole Olè Un tardessigno Vesta sicura Se mi attacca Tardino Mi fa l'uso del blog Ok ci può stare Per pescare uno Mi ricordo di attaccare Broly Sui minion Quando l'avete visto di sto deck Non ha senso sto deck Quale è quello dell'avversario Che comunque è sempre più forte del mio è Perché c'è più carta che ha trovato Quals'era è un problema Lo so benissimo Per questo sto cercando di non farlo trasformare Gohan Ah il green meta Sì sì no ma Per nulla sbroccato Assolutamente Che fai a sto con? Posso prendere Broly Ah 5 or less No sti cazzo è loro Amen Allora Eh fratellino sto a pescare Broly Che ci posso fa' Sono sfigato Vediamo se lo peschiamo Corcazza C'ho il Trunks Fury adesso Se sta nelle vite è ancora peggio Sì io sto ancora a 6 Per me non sono riuscito a prendere Sto Paragas che mi toglie uno di vita Ma Un po' non schifo Allora Se voglio trattare il Trader Il Trader è se lo gioca lui E io lo voglio trattare Io comunque devo giocare almeno due carte Tipo A meno che non gioco un Revegeta Ok buono Meno male questo è entrato Bene che è entrato capo Eh io non so nemmeno se fai il Critical faccio Perché se questa si inizia a trasformare E' finita Io continuerai a trattare Sincero Eh non lo so qua Madonna Comunque il Critical col meno uno Però si si inizia a trasformarsi Secondo me è figo Perché inizia a sfruttare pure Cell Togliamo tutte le pedine che c'ha C'è un C16 che ti fa evocare un Gon dal Cimitero Sto Gon ogni volta che lo piazzi aggiunge una vita Si si lo so ce l'ho il Gon che ti dà un più uno Si ma io mi vorrei trasformare Mannaggia chi so io Eh 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 Orca troia Ok lui c'ha triplo rampo E' qua No no c'ha Si tre rampo Ah ma lei le ha usate i Revegeta Zitto ne ha già usate due O comunque le ha scartate in qualche modo Ok gliene restano solo due Eccoci qua Quello si dà più uno Buono Così posso fargli il Critical faccia Non mi attacca Probabilmente non ho difesa Devo usare sto Trunks Oppure il Blogger Vediamo La Guardia di Broly Noi la perdiamo Eh frate Purtroppo sono spigato Non lo pesco Giocano Eh il Gon da 7 se ne giocano due Io non ce ne manco uno Quindi figlio Vediamo se vuole tratta Tardes Comunque lui sta investendo un sacco di carte Per trattarmi quel Tardes Sto Broly Tanta roba Gli posso trattarmi Per fortuna Lui ancora non l'ha pescato Broly Mi va faccia Perfetto capo Era quello che volevo Ti prego Fammi pescare sto Broly Dopo faccio Paragas E mi mette E porca trova Ma dove sta Trova mi faccio lui Oddio che è sta cosa Draw one card Disca one card From your hand Oh vabbè Un ciclino alla fine Vediamo che si scarta Scarta in dratto Revegete Io quasi quasi Mi parerei Quasi mi va faccio Che scartato Ovegete Vediamo Ehm Ok Devi usare la carta Posso dire che non L'ho capita Sta giocata Ah Quando attacca Ah ok 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 Pesca più uno Quando attacca Ok Ok Capito Oddio Sta carta è late game Eh porca Da sta sto Broly Cristo onnipotente Allora io voglio giocare Lui sicuramente 3,3,6 e 2,8 No Per così mi metto anche il blogger Mi tolgo Oddio Sì sto Broly È l'unica cosa che riesce a compensare Il Broly grosso Che non ho Tolgo sto Trunks Poi inizia a fare Full Critical Anche se io dovrei Trattare Che schifo Frate Che schifo Vabbè non riesco a pescare Broly È impossibile Non so che dirti Mo guarda Zì faccio Questa giocata Mo mi esce Magicamente Da Dal top deck Easy No C'ho solo i Broly Questi pezzottati Mi gioco un altro grosso A sto punto Ho metto doppio critical Da 25 Ci può stare No intanto Devo shottare sto schifo Assolutamente Questo è quando attacca Mi pare Mi pare che mette Ok Ok quello Io l'ho spaccato Il 15000 Io comunque Attaccherò qua E mi prendo Il blocker Dal cimitero Sì se questo Mi cala Gohan Dio Cristo Quante ne tiro Questo vado Faccio A parte che devo Flippare qua Mi stavo dimenticando Il rampino Ok Per fortuna Non è Broly Sì se Dipende E poi gli calo sto Broly Doppio critical Non lo attaccano mai Con doppio Vegeta Per rischio Mette roba più grossa Ok Che ha giocato Uh 3 Revegeta Si è sprecato Se ti cala Gohan Almeno Broly Non muore Gohan Che spacca Scusami 5 inferiore Mi pare Ok Non ho skillo Oddio Skill in realtà Posso skill Che cazzo mi frega Pesco un più uno Perlomeno Intanto ho troppe energie In realtà Mi tolgo Una cagata Perfetto Vabbè Importante aver Splinciato Oddio Mi sorpreso comunque Lui che mi fa fare Un peschino C'è un altro Il drop appena Cioè il blogger Appena lo posso Lo uso Vediamo che cala 10 di energie Con 10 di energie Gli cali la madonna Tipo Beh lui sta messo male Comunque sta pescando Sta provando a fare qualcosa No Ma dove sta il mio Broly Cristo Dio Vedete ma è incredibile Sto game L'avevo carriato Già 30 anni fa C'era pure lui In fondo al mazzo Ogni tanto Eccoli là Vabbè io faccio il blogger Ah no Aspetta Questo mi spacca il blogger Figlio di puttana Sì ma sta roba è fortissima È ok che io C'ho doppio ore vegeta E mi salvo nel bucio Del culo Però È rottissimi Gli androidi Drop a 6 40.000 Ma frate Devo uso Quello Cazzo Mi ha freddo Eeeh Ti Lui ci prova Con quel sale Non attacca Mi sta usando Un sacco di risorse Per potermi A trattare Ma comunque Non tratta un cazzo Sì sì frate Metti tutte le carte Che c'è No Eeeh Vabbè uso Un re vegeta 45 Giusto sì Certo certo Sicuramente Mi posso parlare Da un altro android È incredibile Pull up Le deck Di genio Buon anime Bruni Dio Eeeh 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 Incredibile Uno schifo Eeeh 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 Da qua che giocatore Eeeh 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 Olè Olè Moni si inizia a fare pure sotto Potevi provare a pescare No Sti cazzi No Intanto Ma intanto Io posso sempre skillare Ma andando non lo pesco bro Non ti preoccupare E' proprio l'ultima cosa che vedremo in sta partita Figurati ma figurati Uè figa Eeeh Eeeh Allora Continua a non fare un cazzo Sinceramente Eeeh Eeeh Io mi si passo sto turno Io voglio attaccarlo tutto faccia Quando avrò bro Ma Eeeh 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 No no A 5 sicuramente lo mando Vabbè Lui si può pure difendere Lui per difendere Deve usare un'altra carta Per forza Lui sta messo Poco una merda Si è normale Che tra gli altri E' proprio la base A posto E' stato usato Uno Due Tre No solo tre Re Vegeta Attacchiamo un attimo Lui Con bro Risettato Avrei vinto Perchè lui Non poteva far più un cazzo Eeeh Traddo con lui Eeeh Passiamo Lui sta al top deck Zibò Per quanto può top deckare Poi vabbè Può attaccare con Gohan Ciao Luis Vi saputo Pure io Ti saputo Un saputo A tutte Top deck Di Gohan A 7 Olee Oppure di Broly Anche se Può fare veramente Il minimo Io c'ho un Re Vegeta C'ho pure Ah no La Skid Broly Non la posso usare Ah ma si può andare Pure oltre I 10 di energia Eeeh Anche qua lui La carta top deckata L'ha usata per l'energia Perchè? Ma in che senso? Ma già non c'è un cazzo Scusami Ehi andrei a ridere il rotto Vabbè ho capito che su sto gioco Green e Stepo nel mezzo Sì sì Non c'ho senso Ti hai piedi visto? No E in tutto questo Io continuo Non pescare Quello schifo Di Broly Olee E' impossibile E' impossible E' vabbè lui Un altro blogger per ride Ma si può andare oltre Le due strisce Cioè mi inizia a fare tutto il campo Le strisce di cocaina Allora c'ho uno Due C'ho tre critical E poi c'ho 40 attacchi faccia Ma io credo sì Che stiamo in un cilo E' gramoroso A parte devo attaccarlo Prima con lui Vabbè sti cazzo Che dove può flippare In realtà c'ho Broly Cazzo mi frega Non ci sono mai arrivato Quindi non so Sarebbe un ottimo campo di prova Per farlo No no Ma l'ho uccido Lui al massimo Pesca due carte Credo Ah ho usato addirittura La skill adesso Ho capito Lui continua a buffarsi L'energia Fammi vedere che c'ha Fa tutto schifo Poi lui c'è Broly In fondo al mazzo Se dici l'art left Non ho pescato un Broly Perché non ti fa controllare L'energia Madonna Sarebbe stato interessante Ah Ah non può Ah no Ok se non lo controllo Giusto Ok se non ho Ok 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 Eeeh Vabbè si Strongo Non abbiamo andato Manco un Broly No 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 Ma niente È zero Sì proprio zero Andiamo Transform Sì sì No no Ma ce n'avevo un altro Nel drop Che pensavo Che non Potevo pure Non Cioè pure se li controllavo Bravo fratello Hai fatto l'awaken È bravo Mo ti devi difendere Un po' di Broly Vabbè È una volta Hai usato la skill di Gohan E il resto Va bene capo Ho tutto quello che vuoi Non ti difendi capo Va bene Qui c'ho pure questa Come skill Lui si difende Per forza Ah non ti difendi Il re Il re Il re Sì per il meme Per il baba Gigi Ma chi è pescato Il Broly Avrebbe fatto rire Sì ma io Ti rendi conto Se dici KartRap Non ho giocato Un Broly Che schifo Cioè in realtà Ne ho giocato Un po' Di Broly Però non Il Broly Vabbè Aveva Gohan a 7 Ah meno male Che non l'ho visto Guarda Incredibile Un match Però ti rendi conto Mi sono beccato di nuovo Con Gohan a 7 Gli androidi Come cazzo Per fortuna Che ha pescato male Pure lui E